Rissa fu ribonda nella serata del 24 giugno nei presti di Corso Vittorio Veneto, altezza del convento di San Francesco a Mazzara del Vallo. I protagonisti dell'incredibile Rissa erano due uomini, un mazzarese FV di 46 anni e l'altro di origini tunisine BJ di 45 anni. Sul posto sono intervenuti subito la polizia di stato di Mazzara del Vallo e i carabinieri, i quali si sono trovati davanti uno scenario degno di un film di Quentin Tarantino. Infatti, sembrerebbe che i due uomini, dopo una lite verbale, abbiano utilizzato delle armi da taglio per ferirsi a vicenda. Addirittura, sembrerebbe che una di queste armi sia un'accetta, ma è ancora tutto da accertare. Gli uomini con molteplici ferite sul corpo sono stati subito separati e le forze dell'ordine hanno cercato di sedare gli animi. Per questioni di sicurezza, la zona è stata chiusa al traffico per circa un'ora. Fino a quando non sono arrivate le ambulanze che hanno trasportato i due feriti presso l'ospedale di Marsala, Paolo Borsellino. E quindi gli inquirenti hanno svolto le dovute indagini del caso per verificare i fatti. Ma ancora non c'è dato sapere le cause che hanno scatenato una lite così accesa. Sul luogo erano evidenti le tracce di sangue lasciate sul ciglio della strada degne di un incidente stradale. La prognesi dei due uomini è sconosciuta. Siamo in attesa di avere un riscontro da parte delle forze dell'ordine che si stanno occupando del caso. Grazie.